Buongiorno ragazzi, oggi vorrei affrontare un tema un po' particolare, ovvero quello dei trapani a colonna. Non voglio fare un unboxing, non voglio fare nessuna presentazione di nessun prodotto, vorrei parlare un po' in generale dei trapani a colonna e del mio modello, quello che ho comprato oramai da più di 5 anni, è qui nella mia officina, ed è uno dei primi modelli di trapani a colonna, di fatto quello da 500 watt, tra l'altro del 2018 come potete vedere dalla data, tra l'altro omologato dal TUV tedesco con i mari marchi GS, quindi non è un giocattolo, non è un prodotto da sottovalutare, non è un prodotto che magari qualcuno si è trovato male o l'ha trovato un po' pensando fosse un modello vecchio, questo è il classico modello che dagli anni 80 a oggi in qualsiasi brico potevate vederlo sugli scaffali in vendita con varie colorazioni, addirittura anche la sceppa che lo fa uguale e se continuano a farlo significa che è un prodotto ormai affidabile, ormai solido, come si dice squadra che vince e non si cambia, poi essendo veramente un prodotto tutto meccanico, solo motore, diciamo che quello che non c'è non si rompe, essendo meccanico non si vanno a bruciare schede elettroniche o altra roba. Allora, perché vi faccio questo video? Perché nel gruppo incominciano a parlarne tra panni a colonne, i nuovi arrivati, quale posso comprare, quale non posso comprare. Beh vi dico ragazzi, io questo ce l'ho da cinque anni, lo uso proprio per lavoro, ci faccio di tutto e in cinque anni l'ho maltrattato, l'ho veramente maltrattato, ci ho fatto di tutto, mi sono sempre trovato bene, non ho avuto nessun tipo di problema, vedo spesso sul gruppo che oramai le persone vedono gli oggetti, sembra che gli fanno le carezze, fanno un piccolo cosa, ragazzi ma ho sentito un rumore, ma è normale questo rumore che fa? Ragazzi i rumori li avete voi nella testa, nel senso che sono attrezzature da lavoro, vanno utilizzate per lavorare, fanno rumori, cavolo le officine sono piene di rumori, cioè quando entrate in un'officina non sentirete mai il silenzio, perché la gente ci lavora con questi attrezzi, quindi utilizzateli, usateli. Ora vi volevo far vedere questo modello, non vi voglio fare né un unboxing né una presentazione, niente, ma vi dico in cinque anni che ce l'ho ha sempre veramente fatto il suo lavoro, non si è mai fermato, non si è mai rotto, non ha mai fatto nulla, tra l'altro questo mi sembra che non è forse il primo ma il secondo modello della Parkside, perché è quello dotato anche del laser, vedete c'ha persino il puntatore laser che uso veramente di rado, però è equipaggiato anche del puntatore laser. Questo prodotto comunque vi volevo dire, quando viene venduto, molti dicono eh ma è arrivato a casa è tutto storto, è tutto traballante, non funziona, sì perché ve lo vendono preassemblato, ma non è che ve lo vendono già pronto per essere utilizzato, no, questo trappano a colonna viene venduto semismontato, praticamente come lo andate a toccare è tutto da assemblare, il motore che oscilla, infatti magari perché vedono che il motore oscilla un attimo, che sia rotto, che sia difettoso e molti lo riportano indietro. Questo è un modello che va proprio tarato, va messo in squadra, va aggiustato, va un attimo perché ve lo vendono proprio uscito dalla catena di montaggio, ve lo mettono nella scatola, poi dovete essere voi a casa ad assemblarvelo e sistemarvelo come si deve. Le operazioni da fare le potete trovare anche nel video del buon Riccardo Muscarella, che ha fatto un video apposta, che spiega una volta tirato fuori dalla scatola come si tara questo trapano, perché ovviamente voi forse non lo sapete, ma dovete innanzitutto, qua all'interno ci sono delle cinghie, delle pulegge, e a secondo come andate a montare la cinghia andrete a selezionare il numero dei giri, non è come quello elettronico che il numero dei giri si vada ad adattare a secondo di che cosa state perforando, qua lo decidete voi, è un po' come le marce, le marce dell'auto o della bicicletta, su con quale marcia utilizzare questo trapano, e proprio qua dentro voi andate ad aprire appena vi arriva nuovo, c'è la cinghia, andate a decidere qual è il vostro range di lavoro, di utilizzo, e di conseguenza il numero dei giri cambierà. Oltre a fare questo che cosa bisognerà fare? Dovrete anche andare a tarare il mandrino, la discesa del mandrino, come potete vedere il mandrino non si muove, e molti dicono, ah ma a me questo qua balla, si muove tutto, questo vedere anche tirandolo giù non si muove di un millimetro, ma perché? Perché va tarato? Bisogna smontare questo cappuccio, questo tasto rosso di emergenza, togliendo la vite, dietro trovate una specie di dado contro dado con un granetto, che va a bloccare la corsa del mandrino, non a bloccarla, ma a bloccare l'oscillazione proprio del mandrino, quando arriva fin giù, che non si muove, non traballa. Molte persone cosa fanno? Non facendo questo lavoro, dicono, ah ma gira storto, non è preciso, perché, come vi sto dicendo, ci sono tutte delle tarature che vanno fatte una volta tirato fuori dalla scatola, come anche il motore, il motore quando lo prendete qua balla tutto, si muove, perché dovete andarlo a regolare tramite questa leva, si va a stringere, si va a bloccare il motore, poi diventa bloccato, vedete che non si muove neanche più, e quindi ci sono da fare tutte queste cose. Vi rimando al video del buon Riccardo Muscarella, che ha fatto un ottimo video e spiega tutti gli accorgimenti, una volta tirato fuori dalla scatola, per migliorarlo e farlo andare al 100%, diciamo che lo portiamo a una macchina che veramente diventa indistruttibile, perché io veramente ce l'ho da 5 anni, non riesco a capire tutte le persone, quelle che ne parlano male, o quelli che magari dicono, ma non lo so, non mi ispirano, non mi trovo bene. Guardate, io in 5 anni ci faccio lavori anche piuttosto pesanti di tutto, ovvero io lo uso per le moto, vado a fare modifiche, vado a creare pezzi, tipo questo portafaro che non è attaccato, come vedete, alle forcelle, come tutti i normali portafaro, ma l'ho fatto io da solo, tramite poi la piegatubi e tutto, sono andato a collegarlo ai riser, e poi ho utilizzato il trapanacolone per fare i vari fori per il fissaggio. Idem qua sotto, come voi potete sapere, i GS hanno il radiatore dell'olio, di solito è qua messo sotto al faro del GS. Io per fare queste modifiche, trasformare questa moto, sono andato a spostarlo, e ho dovuto creare, come vedete, una griglia di protezione, proprio per evitare che i sassi possano andare a bucare, o a urtare contro il radiatorino dell'olio. Ho creato tutta questa struttura, poi fissata al motore, e quindi anche questa struttura, che voi vedete qua sopra, l'ho tutta creata con il trapanacolonna, facendo dei fori, mettendo le barre, come voi potete vedere, all'interno della morsa, che trovate sempre in dotazione, e poi si va giù e si fa il foro. Mi sono veramente trovato bene in tutti questi anni, l'ho veramente massacrato, ragazzi, l'ho trattato malissimo, il mandrino comunque è perfetto, monta fino alla punta la 13, quindi veramente è di tutto punto. Tra l'altro guardate, anche la morsa l'ho rovinata, perché come vedete, qua ci sono già dei segni, uno qui, uno qui, perché sono andato a trapanare addirittura la morsa, dopo che ho fatto il foro, però io lo uso per lavoro, quindi non è che, molte gente, ma è preciso, ma non è preciso, ma non è una macchina CNC, a controllo numerico, ragazzi, è giusto per fare un lavoro velocemente, poi voglio dire, anche il numero di giri, voi sapete che per forare l'acciaio, il numero di giri deve essere basso, ci vuole delle ottime punte, le punte in cobalto magari, vi assicuro che anche andando piano piano, vedete il truciolo che si forma, e buca in un attimo il foro che state facendo, quindi io vi dico ragazzi, modello vecchio, modello veramente spartano, ma io in cinque anni, non ho avuto nulla da ridire, mi sono sempre trovato bene con questo modello, ecco perché dico a tutte quelle persone, che si stanno avvicinando, se lo trovate in offerta, 59, 69 o 79 euro, prendetelo al volo, non fatevelo scappare, che è veramente, è veramente un ottimo prodotto, tra l'altro, cioè con quella cifra, cosa vi andate a comprare, c'era questo in offerta, l'altro giorno cos'era, 49, 59 euro, e questo però dovete farveli da solo i buchi, mentre con questo una volta messo, poi siete un attimo più precisi, ho sentito molti ad esempio, invece che si sono lamentati, tra l'altro in dotazione vi danno anche questa morsetta, si sono lamentati del pianetto, perché dicono che flette, ok ragazzi, magari può anche essere che flette, cioè io l'ho usato veramente, poi ragazzi, per forare l'acciaio, quello sottile, anche mezzo centimetro, anche se flette un attimo, non è che vi fa fare un buco storto, che cosa, il buco viene sempre dritto, se flette un attimo, se dovete fare dei lavori particolari, ovvero, se dovete tipo forare, una in linea verticale, facciamo conto, questo bullone, dovete fare un foro qui, che esce qua sotto, sulla punta di qua, magari se flette un attimo, in quel punto, magari vi esce, non direttamente sulla punta, ma vi può svirgolare, di qualche millimetro, e allora lì lo posso capire, però voglio dire, se facciamo, non tipo quei lavori lì, che io sfido chiunque, a fare un lavoro del genere, andare a forare in modo verticale, un affare del genere, ma se dovete solo forare dell'acciaio, fare dei fori così, va più che bene, ma altrimenti, si può ovviare al problema del, che ripeto, per flettere ce ne vuole, ma se dovete fare dei lavori, di quel tipo lì, si può risolvere con questo, con uno di questi pianetti, che si vanno a regolare, si infilano qua sotto, vedete, poi lo andiamo ad alzare, qua, andiamo ad alzare, una volta che si è bloccato, vedete, altro che se flette, non flette più dopo, vedete, una volta che voi siete andati a far così, altro che, e diventa, questa è la soluzione che abbiamo trovato, quelli che hanno questo modello, che dicono, ah ma flette il mandrino, se dovete fare dei lavori pesanti, in questo modo, andate sicuramente a risolverlo, ma se no, altrimenti, guardate, potete anche, benissimo, togliere il pianetto, spostate direttamente, questo qui, andate e andate poi giù a forare, quello che dovete forare direttamente, ragazzi, io vi dico, mi sono trovato bene, se lo trovate in offerta, non fatevelo scappare, perché, è veramente, è un ottimo prodotto, poi è ovvio, volete quelli elettronici, quelli col numero di giri, quelli lì, che, io ho sentito molti, le vecchie versioni, almeno quelle vecchie, a volte impazzivano il numero di giri, non riusciva, andava veloce, poi andava piano, poi dopo si fermava, non lo so, io preferisco, roba vecchia, roba che quando mi serve, io schiaccio, accendo, funziona, se devo fare una cosa all'improvviso, vado a bloccarlo, col tasto qui davanti, e non sto tanto, a capire come mai va, non va il numero di giri, ma poi, se siete degli smanettoni, volete giocare, fate quello che volete, niente ragazzi, vi ho fatto giusto questa panoramica, per farvelo vedere, per dirvi ragazzi, non veramente, non fasciatevi la testa, no, questo modello, non mi trovo bene, non mi piace, e non tutto, io, mi sono trovato bene, poi voi, fate un po' come volete, ragazzi, spero di avervi, ho detto un po' una panoramica, fatto vedere un po', così, per chi ancora non lo conoscesse, ma veramente per me, è un ottimo prodotto, poi, fate voi, ragazzi, se c'è qualcosa che volete chiedermi, qualche informazione, qualche altra info, me la scrivete sotto nei commenti, io per il momento, vi mando un abbraccio grandissimo, e alla prossima, ciao a tutti ragazzi,